ETF su Bitcoin, che cosa sono? Come è strutturato l'ETF su Bitcoin? I vantaggi, gli svantaggi? Dove e come investire sull'ETF in Bitcoin? Tutto quello che devi sapere in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video tutorial sugli ETF di Bitcoin che sono stati approvati nella giornata, anzi nottata di ieri, ragazzi, e sono arrivati nell'ambito della finanza internazionale, sono arrivati un tot di ETF, vi faccio vedere le prime quotazioni per quanto riguarda quello di cui parleremo oggi in questa videoguida che è quello di BlackRock, cioè l'EBIT, l'ETF che riguarda Bitcoin e che ovviamente sta seguendo pedissequamente, questo è un grafico a 5 minuti, ragazzi, giusto per farvi vedere i primi scambi, pedissequamente quello che sta facendo negli ultimi 20 minuti, cioè un up and down per l'augurio dell'ETF. Ma che cosa sono gli ETF? Qual è lo scopo di questa guida? Quello di farvi capire appunto che cosa sono gli ETF, come è strutturato l'ETF di Bitcoin principale che è quello di BlackRock, parleremo di quello, poi più o meno potete fare in maniera indiretta, avere un'idea anche sugli altri come funzionano e poi andiamo a capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi, perché ci sono da ambo le parti delle cose che bisogna andare ad analizzare, ragazzi, ed è importante perché per qualcuno potrebbe essere per esempio necessario e anche utile andare a utilizzare gli ETF di Bitcoin piuttosto che il Bitcoin Spot, per altri assolutamente no, quindi cercheremo di capire questa cosa, come si deve andare a investire, quali sono i primi broker che li stanno quotando e come fare per andarli ad acquistare. Tutto quello che dobbiamo sapere proprio su questa questione legata all'ETF su Bitcoin in questa guida, ragazzi. Allora, iniziamo subito, prima di iniziare però vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi anche i pollicioni in su e iniziamo a parlare andando a guardare quello che è in questo momento il nostro articolo che abbiamo appena pubblicato sul blog di Trading On, ragazzi, è ETF e Bitcoin, cosa sono e come investire. Seguiremo questa indice, quindi senza che vi vado a riportare quelle che sono le slide, abbiamo inserito direttamente un articolo, potete consultarlo nel link che ovviamente vi lascio in descrizione. Allora partiamo subito da che cosa sono gli ETF, ragazzi. Allora gli ETF sono dei fondi di investimento che praticamente vengono negoziati all'interno dei mercati finanziari come le azioni, quindi sono Exchange Traded Fund. In pratica sono come i fondi, quindi hanno un paniere sottostante, però questo paniere è in pratica negoziabile non come i fondi di investimento classici che devono essere sottoscritti e quindi sono estremamente più lenti ma negoziabili come le azioni. Tant'è vero che infatti come vedete in questo momento l'ETF su Bitcoin si muove come se fosse un'azione. Ha per esempio quello che sono il bid and dusk e si può negoziare andandolo appunto ad acquistare direttamente facendo anche trading perché per esempio il bid and dusk in questo caso è molto vicino, per esempio qui abbiamo 27.05, 27.08 perché è quota diverso dalla quotazione di Bitcoin perché dipende da NAV, ne parliamo tra poco. Quindi questi sono gli Exchange Traded Fund e hanno un compito ragazzi, quelli di replicare quelli che sono degli indici specifici, quindi dei panieri specifici che per esempio rendono difficile nel caso ad un investitore andare a comprarli in maniera separata. Ovviamente l'utilizzo di un ETF per quanto riguarda un singolo stocks come può essere quello di Bitcoin non è proprio il suo utilizzo naturale in quanto Bitcoin teoricamente potrebbe essere comprato con tranquillità anche sugli Exchange senza alcun problema. Quindi l'ETF teoricamente va ad essere un po' superfluo da alcuni punti di vista. Infatti è questo il dubbio che molti hanno in questa fase ma andremo proprio a chiarire perché invece non è così e per quali motivi dobbiamo tenerli in considerazione per tante questioni. Però in linea di massima il ruolo dell'ETF è quello di andare a coprire la capacità di un investitore piccolo o anche medio di andare a investire su un paniere di strumenti messi tutti insieme. Immaginate appunto il famoso Nasdaq 100 quindi 100 azioni di Nasdaq capitalizzate divise con i panieri per la capitalizzazione 500 l'SP 500 stessa cosa quindi io vado a comprare un singolo strumento e compro tutte quelle azioni quindi un intero paniere. Capite bene la flessibilità, velocità e l'economicità del quanto riguarda l'ETF anche perché gli ETF hanno una sola commissione di gestione molto bassa rispetto a quelle dei fondi e quindi si acquistano e si vendono come le azioni pagando il prezzo al vostro broker di acquisto e poi di vendita alla vendita e poi pagate la commissione di gestione che di solito è bassa 0,2, 0,3 questo qui eh a meno che non sono ETF particolari che hanno leve finanziarie costrutti di natura derivata all'interno però di solito è bassa e questo vi consente appunto di partecipare a quelle che sono le evoluzioni del mercato finanziario senza eh grandi sbattimenti sostanzialmente quello è il concetto. Che cosa sono invece gli ETF su Bitcoin? Eh gli ETF su Bitcoin replicano in pratica quello che è l'andamento del prezzo di Bitcoin in tempo eh reale. A differenza degli ETF che investono per esempio su contratti future di Bitcoin o di aziende peggio ancora correlate a quelle delle criptovalute come ad esempio il mining che fanno ehm in pratica eh fanno una speculazione differente rispetto all'acquisto dell'asset di Bitcoin stesso. Gli ETF Bitcoin sono legati invece direttamente al prezzo di Bitcoin. Come si muove? Bitcoin si muovono questi ETF. Questo significa che in questo momento ragazzi se io dovesse andare a eh mettervi in risalto due grafici eh similari dovrei ottenere in pratica eh lo stesso tipo di eh di eh dovrei ottenere lo stesso tipo di andamento eh rispetto a quello che vediamo. Quanto meno non nella struttura della ehm nella struttura del dei prezzi perché quelli cambiano perché l'ETF ha un NAV una quotazione che è in base al NAV ma a voi interesserà il totale che andate a investire non il totale in termini monetari non possedere un Bitcoin perché ragazzi già prima differenza l'ETF non è Bitcoin è un replicatore di Bitcoin ciò significa che voi comunque andate a comprare un pezzo di un investimento che replica Bitcoin non il vero Bitcoin da poter portare sui nostri wallet eccetera. Quella è tutta un'altra storia qui parliamo di tutt'altro. Allora però vi faccio vedere per capire questa questione. Ecco la eh replicazione come avviene in maniera istantanea ragazzi. Questo è il grafico a cinque minuti da ambo le parti. Non è proprio la stesso movimento perché ovviamente non lo replica in maniera fedele su un grafico a cinque minuti però capite bene che l'andamento era questo quindi le ultime tre candele in pratica sono queste e poi il down e poi il down in questo caso ora sta tentando diciamo una fase di ripristino di questo discorso. Allora questo è il meccanismo dell'etf replicare l'andamento di Bitcoin ma quando andiamo ad acquistare l'etf di Bitcoin non andiamo a comprare come vi dicevo Bitcoin vero bensì andiamo ad investire una somma come possono essere diecimila euro in questo caso sono dollari però ehm quindi chiamiamoli con il nome giusto diciamo diecimila dollari li andiamo ad investire e se Bitcoin sale del 5% il nostro investimento guadagnerà il 5% quindi circa 500 dollari se invece perde stessa identica cosa quindi in pratica noi replichiamo l'andamento di Bitcoin non abbiamo veramente Bitcoin in portafoglio però per molti investitori soprattutto quelli che non vogliono gli sbatti del mercato delle cripto potrebbe essere in effetti un modo per entrare in questo mercato avendo tante garanzie e soprattutto non andando a spostare la liquidità magari sugli exchange delle cripto uscendo dalle fiat è tutto quello che è l'ambaradama anche di altre questioni. Allora detto questo quindi come funziona l'etf però di Bitcoin quello di BlackRock? Io vi ho preso quello che è la struttura proprio di BlackRock perché voglio farvi capire l'etf di iShare Bitcoin Trust che lo potete trovare con il ticker EBIT quindi se andate anche su TradingView ragazzi basta andare a mettere questo ticker EBIT vi appare iShare Bitcoin Trust quotato sul Nasdaq ed è quello che stiamo vedendo proprio in questo momento. Allora come funziona? Quali sono le peculiarità di questo exchange? Parlo di questo ragazzi perché è il più grande insomma BlackRock è la società che ha più investimenti negli etf quella più grande e quella più importante ma gli altri funzionano più o meno in maniera similare quindi andateli a guardare. Intanto c'è da considerare la sponsor fee che BlackRock indica a 0,25 che cos'è? 0,25% annuo sarà la commissione di gestione che BlackRock prenderà dall'anno prossimo in poi adesso la chiamano sponsor fee perché è l'ingresso diciamo l'hanno appena quotato e sarà presa ogni anno quindi la gestione quanto costerà di questo etf se io ho 100.000 euro investiti in questo etf BlackRock si terrà 250 dollari all'anno di commissione perché mi ha dato questo servizio quindi il concetto è questo qui. La sponsor fee tra l'altro BlackRock dice che in questi primi 12 mesi a partire dall'11 gennaio quindi oggi 2024 sarà ridotta e sarà lo 0,12 in pratica la dimezzano in sostanza a meno che il trust quindi questo etf non andrà ad arrivare a 5 billion di asset sopra i 5 miliardi di asset ritornerà in sostanza a 0,25 poi dopo i 12 mesi di questo periodo iniziale diciamo di lancio la management fee sarà dello 0,25 quindi quella che poi resterà in pratica per i prossimi anni. Intanto vi faccio vedere anche vedete come stanno si replicano quasi similarmente in termini di atteggiamento i due strumenti bitcoin vero contro bitcoin etf i share di i share di BlackRock. Allora detto questo poi bisognerebbe comprendere come funziona la questione del pricing e del NAV ragazzi perché c'è una formula che volevo farvi vedere la formula del NAV che vi dice anzi ve la posto qui direttamente perché se andiamo a guardare sostanzialmente il prezzo attuale per esempio di bitcoin etf 27 dollari a singola quota quindi io posso in pratica investire 27 dollari di bitcoin è legato a cosa? È legato alla formula del NAV in pratica noi andiamo a comprarci un pezzettino del net asset of found di questo fondo di investimento e il totale in questo momento vedete sono il national value e il market value sono essendo aggiornati alla giornata del 10 quindi proprio in partenza al prezzo di ieri sono in sostanza 10 milioni di dollari quindi non è tantissimo per un numero di share vedete ancora basso questo perché come vi dicevo anche nei video precedenti sul canale trovate tanti contenuti legati all'etf la questione legata all'etf di bitcoin dovrà svilupparsi quindi è la domanda sull'etf di bitcoin che farà da padrona nei prossimi giorni nei prossimi mesi e soprattutto noi dovremmo vedere il market value di questo etf per vedere a quanto arriva perché solo in quel modo avremo una consistenza di adoption istituzionale ecco diciamo così perché 10 milioni in questo caso non sono poi poi tanti allora almeno qui è indicato in in questo modo al momento poi vediamo al lancio di domani quanto saranno in in totale è facile ritalire anche al prezzo di bitcoin in questo caso utilizzando proprio questi dati perché io posso per esempio andare a dividere il market value per le share quindi il numero di bitcoin che si hanno in in questo fondo e quindi 10 milioni 449 eccetera eccetera diviso le share e ottengo che il prezzo di carico tendenzialmente è circa 45.852 mila euro che più o meno il prezzo di bitcoin di ieri quando ovviamente è stato fatto evidentemente questo tipo di update di aggiornamento allora come si va a calcolare però questo nav quindi l'indicazione sostanzialmente del pricing di questo 27 che vediamo qui in questo caso 27 che oscilla in questa fase discendente di bitcoin allora il calcolo del nav è questo totale dell'attivo del fondo meno totale del passivo diviso numero totale di azioni circolanti quindi poi esce fuori quel quel prezzo in pratica quindi non è per questo motivo che non trovate corrispondenza tra il prezzo dell'etf e il prezzo vero di bitcoin perché non è uno a uno il cambio ma è legato alla nav appunto al totale degli attivi e quindi alla a quanto diciamo capitale in dollari è presente all'interno di questo etf vantaggi e svantaggi allora ci sono dei vantaggi e degli svantaggi che sono abbastanza evidenti noi qui abbiamo creato per esempio nella guida online quelli che sono i pro e i contro per quanto riguarda l'etf su bitcoin i vantaggi sono la semplicità la regolamentazione la liquidità e l'accessibilità per quanto riguarda i rischi abbiamo i soliti che sono volatilità nessuna diversificazione ed è quello che vi dicevo all'inizio adesso ne parliamo un po meglio custodia in diretta questo è un tema molto caldo per gli amanti delle cripto e costi di gestione allora andiamoli a verificare uno per uno andiamo a cercare di comprendere perché servirebbe un replicatore di qualcosa che si può comprare essenzialmente lo stesso sul mercato primo per una questione di semplicità per acquistare bitcoin in maniera diretta andando sugli exchange noi dobbiamo prendere la liquidità dalla nostra banca aprire intanto aprire un conto corrente un conto su un exchange come binance per esempio coinbase kraken bit get by bit insomma gli exchange classici delle cripto quelli attualmente che esistono ancora e andiamo a utilizzare questi exchange per aprire un conto dopodiché prendiamo la somma presente sui nostri conti facciamo il bonifico quanti problemi ci sono stati da questo punto di vista exchange che vi permettevano il bonifico sepa poi a un certo punto lo toglievano non era possibile poi rientrare quindi c'è comunque un ponte questo bridge di connessione mondo fiat con il mondo bitcoin che cos'è il mondo fiat il mondo fiat ragazzi è il mondo dollari euro lo chiamiamo così nel mercato e le cripto mondo bitcoin cripto e il mondo bitcoin c'è questo ponte che spesso arregava dei problemi quindi primo mancava la semplicità dovevo portare la liquidità fuori dal mio conto bancario entrare su un exchange comprare bitcoin e poi dovevo avere da solo l'onere della custodia questo per molti è un vantaggio e anche per me è così ragazzi perché sono ovviamente un bitcoiner un investitore cripto da tantissimi anni e questo mi consente di avere magari delle skills e delle capacità di poter gestire magari dei wallet privati sapere i rischi che corro sugli exchange eccetera però per la stragrande maggioranza delle persone questo è un problema perché significa studiarsi un argomento per quanto possa essere iper affascinante non possiamo immaginare che centinaia migliaia migliaia di persone possono essere affascinate tutte in maniera uguale da questo argomento quindi la questione della custodia dei bitcoin veri quelli veri tra virgolette sempre codice ma quelli originali diciamo così era complessa ed è ancora molto complessa poi ci sono gli hack che possono sussistere possiamo perdere le chiavi nel nostro wallet privato se invece li lasciamo sui checks e sugli exchange siamo in custodia indiretta e questo è pericoloso insomma queste peculiarità sono tutti i rischi che con l'ETF non esistono più perché io non devo uscire con la mia liquidità dal mio conto bancario posso andare dal broker che sto utilizzando e comprare direttamente bitcoin etf replicarlo tenerlo per esempio per due tre mesi dopodiché chiudere l'operazione perché ho fatto un trade non ho bisogno di avere la custodia dei bitcoin quindi se sono solo un investitore cripto se non voglio partecipare a quello che c'è dietro la questione delle cripto quindi al concetto della evoluzione del bitcoin come utilizzo della currency come moneta di scambio ma voglio solo partecipare dare il mio contributo perché poi alla fine ragazzi investire anche sulla questione bitcoin è comunque dare un contributo alla tecnologia perché sempre soldi e liquidità che entrano in questo settore sono e quindi da un certo punto di vista io do il mio contributo però non voglio partecipare in termini di primo attore bensì sarò un semplice investitore in questo modo l'ETF aiuta tantissimi ad avvicinarsi a questo mondo aiuta tantissimi in pratica a prenderne parte e in questo caso a snellire tutti quelli che sono questi problemi quindi minor sbattimento di spostamento diciamo di liquidità eccetera minori rischi dovuti al fatto che io non ho il problema del rischio della self custody e del lasciare sull'exchange ovviamente ragazzi organi regolamentati come gli ETF di BlackRock eccetera anche gli altri emittenti degli ETF sono molto più sicuri di qualsiasi exchange di cui noi stiamo parlando perché hanno più regolamentazione poi il fatto che magari possano crashare questo è sempre possibile come tutte le cose nel sistema però diciamo sono un po' cigni neri che riguarderebbero l'intero pianeta più che altro non solo nel mondo cripto c'è però da dire una questione e qui noi l'abbiamo anche specificata il fatto che anche sull'ETF ci sia una custodia in diretta perché noi in realtà non abbiamo i veri bitcoin abbiamo un replicatore di bitcoin che però sono posseduti realmente da BlackRock in questo caso quindi dall'emittente dell'ETF e sono posseduti nel caso di BlackRock su Coinbase quindi in ogni caso loro si assumono i rischi di eventuali hack però noi abbiamo il rischio che loro custodiscono i nostri bitcoin sottostanti c'è da dire che però nel caso specifico la SEC non ha dato l'ok a poter fare il redeem di bitcoin direttamente ma dobbiamo fare il redeem quando vendiamo l'ETF oppure vogliamo riprenderci il nostro capitale dobbiamo o venderlo oppure richiedere i dollari relativi ma non possiamo richiedere i bitcoin relativi quindi in questo caso ahimè anche la questione della custodia in diretta è un rischio relativo cioè in realtà sì loro detengono i bitcoin ma questo è solo un investimento diretto non è un acquisto diretto di bitcoin ma è un investimento eccetera poi la questione volatilità è la stessa identica come si muove bitcoin si muoverà l'ETF su bitcoin ormai l'avete capito e ve l'ho fatto vedere in maniera molto chiara nessuna diversificazione è un problema di cui vi ho parlato prima quindi anche l'ETF di bitcoin non ha diversificazione perché è un singolo asset tutto quello che fa bitcoin farà l'ETF di bitcoin e ci tiene moltissimo anche BlackRock a dare queste specifiche per esempio in questo brief che va a pubblicare andando a indicare che intanto dice una cosa bellissima che i digital asset adoption ha un tasso di crescita che cede tutte le altre tecnologie che noi abbiamo visto perché per esempio per raggiungerci 300 milioni di users i telefoni cellulari ci hanno messo 21 anni internet ci ha messo 15 anni le crypto 12 anni quindi sono stati veramente molto veloci però qui vi dice vedete bitcoin performance compared to major asset classes e qui vi dice in maniera molto chiara e significativa che bitcoin ha alterna periodi di altissime performance significativi drawdown e quindi sono in questo caso vedete o è primo asset rispetto a quelli considerati che sono più o meno i panieri, gli indici eccetera o è l'ultimo cioè non c'è una via di mezzo in pratica perché vedete o qui è primo o va in down o è primo o va in down è vero che noi siamo sempre saliti con i famosi anni di tre anni positivi e uno negativo però è anche vero che vanno considerati questi alt e bassi quindi in termini di volatilità subiamo l'intera volatilità del mercato e tra le altre cose non abbiamo diversificazione quindi l'etf di bitcoin se volete utilizzarlo utilizzatelo comunque come un etf che è simile al stesso bitcoin come un'azione ragazzi deve essere utilizzato diversificato con altri strumenti e questo è un mio consiglio spassionato ovviamente non sono consigli finanziari ma questi dal buon parale di famiglia cioè utilizzate la diversificazione quindi neanche l'etf di bitcoin può diversificare però attenzione perché l'avvento del tf di bitcoin rende possibile la creazione di altri panieri di etf che hanno all'interno l'etf di bitcoin quindi io potrei realizzare adesso a questo punto un etf che è legato per esempio alla tecnologia delle evoluzioni del prossimo millennio dico io così e dico benissimo dentro c'è anche l'etf di bitcoin ci metterò dentro l'ai etf sulla intelligenza artificiale sulla biotecnologia dentro quello di bitcoin e poi altri allora in quel caso potremmo creare diversificazione quindi la creazione dell'etf di bitcoin potrebbe essere uno dei primi step per avere poi diversificazione su altre etf con all'interno bitcoin e in questo caso si potrà fare perché esiste adesso un etf che potremmo utilizzare che anche diciamo le case di gestione come ad esempio BlackRock stessa potrebbe andare ad utilizzare andiamo a vedere quelli poi c'è anche il costo di gestione ecco questo è l'ultimo che vi volevo dire ma che è diciamo piccolino per quanto riguarda bitcoin è quasi irrilevante c'è un costo di gestione dello 0,25 anno se voi detenete bitcoin spot e lo detenete sui wall street wallet privati non pagate nessuna management fee a nessuno quindi quello è il vero bitcoin lo potete scambiare lo potete dare nessuno ve lo può prendere tanti vantaggi che sono legati ad altre questioni nel caso specifico questo è un investimento lo ribadisco su bitcoin non è come comprare bitcoin e nel caso specifico è significativo perché si va in pratica ad avere un mini costo di gestione quindi piccolino ce l'avete però in ogni caso ogni anno ridondante va bene ora con le performance di bitcoin lo 0,25 anno diciamo che non ha neanche senso andarlo a considerare come costo di gestione però un domani andrà visto poi quali sono i vantaggi invece dell'ETF? intanto la semplicità ve l'avevo già detta poi c'è la questione della regolamentazione l'ETF sono regolamentati quindi noi non dobbiamo far nulla possiamo investire semplicemente utilizzando l'ETF e stop i profitti saranno tassati e le perdite no tutto funziona legato a quella che è la questione dell'ETF quindi anche i vantaggi fiscali non avete problematiche a fare imposte varie eccetera è tutto gestito come un normale ETF è molto facile da utilizzare è molto più semplice immaginate di avere grossi importi ragazzi non le 1.000-2.000 dollari grossi importi immaginiamo di avere un milione due milioni di dollari da doler investire e dedicare a bitcoin magari su portafogli molto consistenti come per esempio 100-200 milioni di portafogli eccetera come faccio io? Devo uscire e andare sul bitcoin? in questo modo io compro l'ETF bam un milione di dollari di ETF di bitcoin ho diversificato magari il mio portafoglio il mio consulente finanziario mi farà diversificare così e a quel punto non devo fare nulla la regolamentazione c'è le tasse saranno belle chiare c'è una normativa semplice è quella degli ETF è tutto lineare è tutto semplice è tutto facile infatti l'ultimo valore e l'ultimo vantaggio dell'ETF sarà l'accessibilità cosa non è buono invece per me da parte mia di questo prodotto sono intanto non è vero cioè non è il vero bitcoin perché il redeem di bitcoin che io non posso fare non posso andare da iShare Reddine da BlackRock di dammi bitcoin che io ho sottoscritto non mi dare i dollari dammi bitcoin non si può fare perché la SEC non l'ha permesso perciò da questo punto di vista è negativo perché io non possiedo i veri bitcoin non li posso usare per nessuna transazione non ho la self custody me li possono prelevare me li possono pignorare come tutte le cose a livello bancario possono fallire se fallisce il sistema finanziario è cigno nero diciamo proprio di quelle così però insomma sono un po' degli sbattimenti e poi in sostanza è un ETF diciamo secondo me è più da utilizzare a modo investimento di trading quindi non come holding della cripto però se voi volete holdare l'investimento allora sì in questo caso può essere utilizzato quindi dal mio punto di vista credo che questo sia il vero vero valore come andare a investire semplicemente si può utilizzare questo broker che adesso vi faccio vedere dove c'è quotato io ho fatto anche tra l'altro una prima operazione di test allora eccolo qui ragazzi lo troviamo già su Interactive Broker per quanto riguarda il broker che ovviamente dove trovate tutti quelli che sono anche gli ETF ovviamente ci sono delle difficoltà anche di transazione perché comunque americano quindi in questa prima fase prima che sarà integrato anche nelle borse europee dovete dargli insomma produrre dei terminati documenti per quanto riguarda Interactive Broker però in questo caso ecco lo trovate già direttamente per esempio io ho fatto un test di 100 quote che ho comprato così per fare un test tra l'altro sto perdendo qualche dollaro credo perché è sceso quindi posso per esempio andare a cliccare qui e vendere non me lo fa acquistare perché mi dice io sono riuscito ad acquistarlo prima però adesso mi chiede per esempio questo documento che vi sto dicendo in ogni caso è molto probabile che tra un po' sarà anche inserito per esempio all'interno dei normali istituti di credit se insomma avete per esempio in Italia potrete magari acquistarlo utilizzando qualche banca italiana come per esempio Fineco quindi secondo me tra un po' di giorni sarà inserito anche lì in ogni caso i broker online dovrebbero avere iniziato a inserire l'interactive già ce l'ha al di là della richiesta di informazione che comunque quello lo fa per tutti strumenti similari bene detto questo ragazzi benvenuto a ETF Bitcoin da qui to the moon tutti quanti non è così bisognerà vedere tanti questioni poi ne parleremo per esempio nei video dedicati ma io sono contento di aver rifatto questo tutorial e spero di aver chiarito tanti vostri dubbi perché come utilizzare questo tipo di ETF e in quale modo detto questo ragazzi aspetteremo poi quando sarà disponibile anche sui classici broker europei per andare poi a fare per esempio i primi test intanto benvenuto ETF giorno storico benvenuto su Bitcoin ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti